Ho avuto sete Questo è il nostro progetto che realizziamo ed è stato finanziato Grazie a diversi donori, come Enerplan, che è una società italiana Athlete, una scuola italiana di inglese e Miss Gina Modenese, da Italia, una donora privata e Radio Bruno, ovviamente Grazie, Radio Bruno! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.